Ligue 1, PSG sconfitto, il per ora è secondo. Ansa, Roma, 11 febbraio il Paris Saint-Germain stecca a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale della Champions League martedì sul campo del Bayern Monaco, facendosi sconfiggere 3-1 del Calitro Monaco che momentaneamente è secondo nella classifica della Ligue 1. A meno 7 proprio dai parigini di Christophe Galtier, allo stadio Luisi I di Monte Carlo. Il PSG scende in campo senza diversi big, a cominciare da Leo Messi, e va sotto già dopo 4 per effetto del gol di Golovin. Yeder raddoppia al 18, poi Zaire Emery accorcia le distanze per gli ospiti, ma ancora Yeder chiude il conto. Ora la Champions e la super sfida di Monaco di Baviera, Ansa.